Sossi, Aruta e Ursula e Bernardo festeggiano felice e celebrano il battesimo della figlia bianca, nata l'11 ottobre 2019, che ora ha quasi nove mesi. I due lo avevano annunciato, finito il lockdown avrebbero fatto di tutto per organizzare la festa e così è stato. Un giorno unico e speciale, un party fantastico, con loro tanti familiari e qualche volto della tv come Riccardo Guarnieri, direttamente da uomini e donne. Eccoci qua, sei sbadigliando amore la tua festa? Sono felicissima, guardate quanto è bellissima con Bettina, tutto per lei. Ragazzi dopo questo battesimo proprio che abbiamo sudato, tutti in piscina, a fare un bagno freschissimo, bianca ha fatto il bagno, sta riprotando e adesso mi truffo anch'io. Ragazzi, veramente un po' di freschetta, io ho metà trucca. Ci siamo rimpreschati un po'. Mamma mia, è andato tutto bene, anzi ringrazio tutti, 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 quelli che hanno partecipato, ringrazio tutti gli avvori. È stato bellissimo, bianca è stata benissimo, felicissima. Grazie. 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 Grazie.